Cadere Le cadute si associano alle circostanze della vita. Si cade per imparare. Si cade quando si è distratti, fragili, sconfitti. Alcuni dicono che solo i veri uomini sono capaci di alzarsi dopo rovinose cadute. I deboli invece rimangono giù. Un corto che affronta il difficile tema delle barriere architettoniche. Protagonista la giovane Ilaria Bidini, la ragazza che a suo tempo incontrò l'ex sindaco Giuseppe Fanfani e l'assessore Franco Dringoli per spronarli a fare qualcosa su questo delicato argomento. Ilaria, assieme a Francesco Faralli, Daniele Bonarini e Michele Lorenzo Rubicondo Squillace, partecipa con questo corso dal titolo Come Se a The Online Film Festival 2014. Un concorso online che premia i contenuti più votati e più visti, dando gli ovviamente visibilità nell'infinito mondo del web. Al di là di Come Andrade, invitando comunque tutti a votare questo prodotto tutto made in Arezzo, è un'esperienza che segna un importante punto a favore nella lotta contro le barriere architettoriche. Una lotta, prima di tutto, culturale. Musica 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 Musica